La misericordia ha occhi per vedere, orecchi per ascoltare, mani per risollevare e ciò che la rende viva è il suo costante dinamismo, perché la misericordia non è una parola stratta ma uno stile di vita. Così Papa Francesco ha colto quanti si sono radunati in Piazza San Pietro per l'udienza giubilare dedicata alle opere di misericordia. Oggi sono tante le urgenze da fronteggiare, gli ammalati, i carcerati, gli affamati, chi non ha un lavoro. Ecco quindi che soprattutto quanti hanno sperimentato nella propria vita all'amore del Signore non possono che rimboccarsi le maniche per alleviare le sofferenze del mondo e dare spazio alla fantasia della carità per individuare nuove modalità operative. A volte passiamo davanti a situazioni di drammatica povertà e sembra che non ci tocchino. Tutto continua come se nulla fosse, in un'indifferenza che alla fine rende ipocriti e, senza che ce ne rendiamo conto, sfoccia in una forma di letargo spirituale che rende insensibile l'animo esteri della vita. La gente che pensa per la vita, che andrà nella vita senza accorgersene delle necessità degli altri, senza vedere tanti bisogni spirituali e materiali, è gente che passa senza vivere, è gente che non serve agli altri, e ricordatevi bene, chi non vive per servire, non serve per vivere. Tra i pensieri del Pontefice, anche il recente viaggio apostolico in Armenia e quello imminente in altri due paesi della regione caucasica, Georgia e Azerbaijan, per incoraggiare speranze e sentieri di pace. La storia ci insegna, ha detto che il cammino della pace richiede una grande tenacia e dei continui passi, cominciando da quelli piccoli e mano a mano facendoli crescere, andando l'uno incontro all'altro.